Ciao ragazzi, oggi Bull ha otto mesi e mezzo, è già da un po' che lo portiamo a correre a piedi perché così fa i muscoli, gli fa bene, oltre che la camminata normale. Eh Bull, un attimo schiaccio. Via, è Bull, fatti vedere Bull. Bull! Eh? È buono, è docile, è un cane molto affettuoso. Guardate. Molto affettuoso, eh? Andiamo a correre, dai! E io adesso cosa faccio? Vai, se mi cicletta mi lo fai. Vai, vai, vai! Oh cavolo raga, ora devo partire anch'io, ho paura che mi cade il cellulare, sono un coglione. Cioè sono stupido se mi cade, perché? Eh beh, non so se si vede perché non riesco a mettere lo zoom perché ho una mano qui e l'altra mano sto tenendo, quindi... Sto andando velocissimo proprio per farvelo vedere. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì Bull! Mi stava per cadere il telefono prima, lo sai? Infatti lo vuole, quando vanno, si può anche accoppiare, eh? Aspetta che mi devo fermare, se no cado! Aspetta, oppla! Puoi dire! Tra il pass, quando ha un anno, è disponibile anche per le monte, ha un buon pedigree. Bull! Stai ancora in fase di crescita adesso, eh? Eh, eh! Arrivo, aspetta mamma! Che devo... Io sono il regista, in realtà sempre, però adesso lo sono perché... Ce faccio anche i video, però sono più youtuber che registro. Di video. Non per questa stradina. Lo sto ancora registrando! Comunque Bull, volevo solo aggiungere un'altra cosa, soprattutto se lo io dovete iscrivere, tirate le campanellina per non perdervi nulla, iscrivetevi al canale. Perché, quanti iscritti siamo? 40, sì. 50 iscritti mia mamma mi prenderà la crew di Fortnite. E se volete che duri, possiamo anche andare molto più. Perché, chi si iscriverà al canale, seguitemi anche su Instagram, BimbyGamers, anche su TikTok, sempre BimbyGamers. E io direi che mandatemi l'amicizia a Tor Romagnolo, perché sto facendo dei context, inizierò a farli, dove regalerò skin e altro. sempre se vi mandate l'amicizia e potrete anche avere il pass battaglia gratis per chi non può shoppare. E raga, comunque adesso aspettate, perché adesso vi vado a dire una cosa a mia mamma, e comunque vi dico anche di mandare l'amicizia a Tor Romagnolo, tutto quanto. Tor Stocato Romagnolo, Romagna mia e mamma Romagna. Per non perdere nulla, raga, attivate anche la campanellina. Attivate anche la campanellina, raga. Non lo so, like, iscrizione, la campanellina. Ne ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Vieni Bull, vieni! Bull, vieni, vieni! Bravo amore, bravo! Dai, merda, regista! No, si mangia i biscotti! Voi tutti i biscotti, dai! Biscottino, facciamo vedere che sei brava, i nostri amici di YouTube. Vieni qua, vieni, dai! Seduto o sei sempre seduto da quando eri piccolino? Bravo! Guarda che cagnone! Guardate che cagnone! Terra? Terra? Bull, terra! Su? Su? Vieni su, qua! Qua, vieni! Bull, vieni! Bull, su! Su! Dai, fai vedere che sei a fare, su! Oh, beh, come mai? È emozionato! Vuoi un altro biscottino, Bull? Non dico a mangiarti di te i biscottini, eh! Vado a dormire! Basta! Cosa devi mangiare? Bull, quanto sei bello! Bull, quanto ha allora Bull? A nove mesi, il 10 di maggio, pronto per, disponibile per monte fra un po', eh! Chi lo vuole, guardate che cagnaccio bello, col pedigree! Oh, gli cerchiamo già la fidanzata, no? Mi sembra giusto! Adesso l'altra femmina che abbiamo è piccolina, sei mesi, fino ai due anni e mezzo la femmina non si può accoppiare! Le mutande con la cintura! Se no, rovini la crescita! Il mio paciaccione! Vieni qua! Dai, fermo! Vai piano! Scendo io, vai piano! Piano! Bravo! Bravo il mio cagnaccio! Bravo, amore mamma! Bravo! Bravo! Sono tutti tuoi! No, no, basta, biscottini, basta! Gli vorrei mangiare te! Basta! Vuoi l'acqua? Vuoi l'acqua? Hai sete, Nani? Hai sete? Oggi, primo maggio, portiamo Bull a fare un bel giretto, eh! Vieni! Vieni, vieni! Vieni! Vieni, 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 vieni! Vuoi fare te il video? Quello sgambetto a toio di una salombarda, abbiamo fatto un po' di bici, fra un po' andiamo, eh! Lo facciamo riposare un po'?